ciao ragazzi bentornati nelle mie lezioni allora come ho già detto diverse volte nelle ultime le uniche lezioni che farò due ore avanti sono solamente su richiesta che potete lasciare al modulino presente nella sezione video lezioni del mio sito www.igorsardi.com dove un semplice nickname giusto per poi essere citati nella lezione anche in forma totalmente anonima potete chiedere tutto quello che riguarda dubbi e approfondimenti sul basso sulla musica sull'armonia sui miei libri eccetera eccetera sul sito se all'altro se ci date un occhio ci sono tantissime novità tantissime offerte e quindi vi invito a farci il saltino detto questo una è l'ultima che mi è arrivata proprio nel modulo è di francesco che mi dice ciao igor mi piacerebbe qualche altro group funk possibilmente con colore un po alto perché quando improvviso con le pentatoniche dopo un po sono a corto di idee grazie allora ho preparato diciamo preparato tra virgolette perché è una base un duppo di batteria con pad un accordo di dominante si bemolle settima ancora dopo più di venti anni che studio devo capire tutte devo ancora capire quante opzioni abbiamo per dare un colore alto su questo tipo di accordo è un ragionamento che ho fatto in altre occasioni è molto in modo molto sintetico l'accordo di dominante quindi la periode maggiore con la giunta della settima minore sono particolarmente portati ad essere diciamo estremizzati con i colori con i vari colori delle improvvisazioni dei riff eccetera poiché sono accordi molto particolari hanno al loro interno un intervallo di quarta aumentata quindi l'intervallo che si crea tra la terza maggiore re e la settima minore si bemolle la una quarta aumentata quindi questo causa tantissime tantissimi effetti collaterali positivi e non di questo accordo che è molto particolare quindi ho parlato molto bene il mio corso di armonia applicata per bassisti tornando ad oggi ho fatto un gruvettino molto semplice nel quale sono andato a raggiungere uno dei come dicevo prima dei milioni di di colori che c'è una delle possibilità per dare un colore un po po scuro un po out alla nostra nostro gruppo improvvisazioni io ho creato un gruvettino nel quale sono andato poi a inserire questo elemento che è quello che viene chiamato sostituzione cioè l'accordo diminuito settima sul terzo grado maggiore cosa vuol dire in si bemolle vado sulla terza maggiore e ci sono l'accordo diminuito settima l'arpeggio diminuito settima quindi in questo caso il re diminuito settima noi semplifichiamo come sempre primo perché il re diminuito settima è identico alfa diminuito settima alla bemolle diminuito settima e al si diminuito settima questo perché gli accordi diminuito settima sono formati da tutte tutti intervalli terza minore quindi qualsiasi nota io prendo contenuta all'interno di questo accordo può essere considerata tonica quindi non cambia niente quindi rispetto al mio accordo di si bemolle settima dove ho la tonica che anzi bemolle a terza maggiore re la quinta giusta fa e la settima minore la bemolle suonando questo accordo qui che nel libri trovate scritto come sostituzione mi ricordo l'arpeggio sul terzo grado maggiore diminuito settima non è altro che l'aggiunta della nona bemolle fondamentalmente se ci fate caso proviamo noi re re diminuito settima abbiamo re che è la terza maggiore quindi ce l'ho già nell'accordo fa è la quinta di si bemolle quindi ce l'ho già nell'accordo la bemolle e la settima minore ce l'ho già nell'accordo e fi naturale o do bemolle che volete invece non ce l'ho è proprio quella nota che mi dà questo colore un po strano che può piacere e non come sempre nelle nelle improvvisazioni e nei gusti di ognuno di noi quindi il groove fa così poi andremo a vedere come a sentire con la base che non è altro che un groove di batteria come dicevo prima con un si bemolle settima di tappeto tappetone allora inizia così vado veloce perché tanto trovate soprattutto nel pdf che leggo sempre nel link sotto al video questa è la prima battuta quindi tonica utilizzo le coste nel funk sempre ottava cost sol quindi sesta maggiore e mi appoggio sulla settima minore un altro cliché un altro cliché del funk due cost e prima escursione nell'out come appunto questo si naturale che lo prendo con questo ultimo movimento che fa quindi re fa si la bemolle o do bemolle uguale e mi riappoggio sulla settima minore poi la seconda battuta qui ci faccio un vibrato ora non ho fretless comunque l'idea era quella o un trillo vedete voi quello che vi piace più chiudo la battuta con un altro cliché funk che parto con un bicordo dalla terza minore sulla corda di re e la sesta maggiore sulla corda di sol quindi do diesis sol corro di un semitono mi è glissato di un semitono mi diventa terza maggiore settima minore quindi re e la bemolle terza battuta identica alla prima ultima battuta ho messo un altro un'altra volta il si naturale di nuovo più o meno quello di prima cosa di prima e chiudo con un filettino qui sulla parte alto sul range alto che è parte della terza maggiore quindi cos terza maggiore settima minore re la bemolle sol re bemolle terza minore quindi sono andato ad aggiungere alle varie sostituzioni che come ha detto il nostro amico le pentatoniche trovo le pentatoniche ad esempio qui io ho utilizzato diversi frammenti della pentatonica minore di si bemolle quindi pur essendo l'accordo diciamo tra virgoletti maggiore abbiamo il re naturale se io ci vado a suonare la pentatonica minore qui ne ho parlato molto nei corsi di armonia eccetera o la scala blu va benissimo perché ci sta da dio su questo accordo quindi un frammento di questo groove qui è preso proprio da pentatonica minore quindi ci sono varie come faccio sempre in funk poi io non è che quando diciamo compongo un groove sto troppo a pensare a utilizzo questa scala questa pentatonica questo arpeggio questa sostituzione mi vengono perché le ho provate tanto 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 e quelle che mi sono diciamo piaciute di più mi sono entrate nei vocabolari quindi vado a utilizzare senza neanche pensarci ormai sono fanno parte appunto del mio modo di esprimermi quindi andiamo a mettere la base ci suoniamo prima un pochino sopra con la batteria perché la cosa fondamentale di questi studi è trovare un bel incastro con la batteria quindi anche quando creerete voi i vostri groove la prima cosa è la ritmica quindi trovare appunto il groove perché si dice groove che vuol dire un milione di cose ma comunque è in questo caso un bel incastro bello fatto bene con l'altra parte ritmica con la batteria poi una volta che ci sentiamo in confidenza diciamo ora in questo caso è una base ma meglio ancora se suonate con batterista andiamo ad aggiungere vari elementi quindi in questo caso andiamo a sentire come ci sta questo si che poi potete prendere questo riff o tanti altri che ho fatto in precedenza e poi copiare come fanno tutti i musicisti copiare è bello e fa bene ma non per poi rifare a pappagallo questo per fare come hanno fatto tutti i musicisti della storia cioè hanno preso un qua in là ascoltando risuonando cose di altri e poi creare un proprio modo di esprimersi quindi io chissà da chi ho sentito questa frase questo groove ma ormai chi lo sa lo fanno tutti quindi prendete se vi piace qualche spunto da questi riff per poi però creare qualcosa di vostro andate ad aggiungere questi elementi uno alla volta se voi buttate tutta roba per dire l'accordo diminuito poi posso usare la pentatonica poi la scala misoline tutto insieme non ci capirete mai niente quindi date spazio al vostro lecchio al vostro gusto di capire se una nota anche solo una nota in questo caso del sì quindi una nonna bemolle può far al caso vostro in un determinato contesto se suona un brano di milla pizzi probabilmente una nonna bemolle sarà meno indicata che un groove funk eccetera comunque andiamo a mettere la base e vediamo cosa succede batteria con padettino sotto fatta in un minuto quindi vediamo la prima cosa che mi viene in mente senza andare a rifare subito il groove batteria con padettino sotto ora proviamo piano piano il groove anche non tutto insieme qualche rametto alla porta dopo di che quando avete immagazzinato il groove potete poi lasciarvi andare anche a un'eventuale improvvisazione in assolo facciamo finta che è un brano che poi rimane una parte in cui avete spazio per il vostro solo questo è un'eventuale ma Grazie a tutti. 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 Ancora devo capirle tutte le possibilità, però io piano piano mi sono fatto un mio modo di esprimermi. Piano piano poi, come nella vita, il vocabolario, le parole che conosciamo posso solo aumentare. Insomma, questo anche nella musica, ascoltando grandi artisti, ascoltando più musica possibile. Rinnovo l'invito, se vi va, di fare un salto sul mio sito e lasciare vostri commenti, anche critiche, sul mio modulino, a cui tengo tanto, ma lo vedo sempre un po' a vuotino. Quindi io aspetto voi, quindi io aspetto voi per fare altre lezioni. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video.